Finita 1-1 la partita a Sparagonafiume di Nisi, siamo con l'allenatore Mento, come giudichi questa partita? La partita è stata da parte dei miei giocatori interpretata alla grande, una bellissima partita, purtroppo ci è mancato soltanto lo spunto decisivo per fare il gol con tutte le occasioni che abbiamo creato davanti alla porta. Come mai tante occasioni però non concretizzate? Penso che ci sia di mezzo anche un po' di sfortuna perché proprio hanno fatto dei salvataggi sulla linea più di una volta, pali, traverse, pazienza il calcio. Ultima partita che puoi vedere dal di fuori del rettangolo di gioco, che tipi di commenti puoi dare stando al di fuori? Stando al di fuori è molto difficile, infatti ci sentiamo via telefono con i ragazzi che sono in panchina perché giustamente è difficile comunicare con i giocatori. Finalmente è finita questa squalifica ingiusta e ora col Camara andrò di nuovo in panchina.